noi nella vita non abbiamo nessuna certezza però spesso la vita ci offre dei segni cosiddetti premonitori per farci capire quello che può succedere e così molti uomini di scienza possono sapere che tempo ci sarà domani cosa succede sul sole quale sono le sue tempeste cosa eccetera eccetera ma soprattutto ci sono quelli che interpretano le profezie che però pur sapendo la verità di quello che sta per succedere come in questo caso la profezia di fatima ce la nascondono sperando che non succeda ma come dico sempre è meglio sapere le cose prima che trovarsi la casa sopra la testa o peggio alla fine del mondo stesso allora andiamo a vedere la conclusione di quello che la profezia di fatima annuncia che dovrebbe succedere fra 33 giorni considerato che oggi è il 31 di agosto 2017 quella verità che ci è stata nascosta per cento anni ma anche in molti sanno soprattutto al vaticano ma iniziamo dai famosi suoni dell'apocalisse sentiti nel 2011 anno in cui sono iniziati strani fenomeni che sono verificati in ogni parte del mondo e che hanno segnato l'inizio di quella profezia di fatima la terza che ci porterà verso la fine ecco ma inerente ai suoni della terra o la voce della terra come l'ho chiamato io ho spiegato ieri in un video il sole potrà distruggere la terra e far esplodere la terra perché perché anche in questo caso gli scienziati sembra che abbiano detto solo una parte della verità spiegando nell'articolo stesso che la terra quando è carica di energia del sole la sprigiona dando o provocando terremoti più o meno potenti o facendo esplodere vulcani e allora cosa è successo nel 2011 che essendoci state delle esplosioni potentissime impreviste del sole la terra ha avuto un calco di energia maggiore che ha dovuto sfogare dando luogo a ciò che viene definito sono stati definiti i suoni dell'apocalisse e allora conclusione elementare ma se il sole allora avesse o avrebbe delle esplosioni più potenti o più frequenti e la quantità di energia nella terra sarebbe maggiore non riuscendo a sfogarla come detto gli scienziati provocherebbe l'esplosione stessa nella terra ecco spiegazione completa di quello che potrebbe essere il fenomeno delle esplosioni solari che riempiono la terra d'energia ma questa è una soltanto delle mezze di verità che ci vengono dette andiamo avanti perché poi sempre in siberia nel 2011 sono verificati dei fori o meglio dire dei buchi profondissimi quasi perfetti che gli scienziati ovviamente hanno cercato di dare una spiegazione come dico sempre una spiegazione naturale c'è ma il significato che hanno che è importante è come dire non bisogna guardare il dito ma ciò che il dito indica e così sempre in siberia si formarono altri buchi ancora sempre nella terra profondissimi e quasi perfetti incomprensibili ma questo non è stato sufficiente perché si sono formati anche in altre parti del mondo e spesso come documentato su vari blog anche su il blog eclissi della vita in centri abitati ecco allora importante non è il fenomeno in sé la causa che li ha provocati ma cosa indicano e sono segni premonitori molto inquietanti come gli sono molti giornalisti così come a livello climatico o di temporali c'erano oltre che dei temporali stranissimi e potentissimi dei fulmini cosiddetti ascendenti che partivano dalla terra e andavano verso il cielo anche qua hanno trovato una spiegazione normale ma sono cose rarissime come gli stessi esperti hanno detto poi improvvisamente nel 2016 uno dei fiumi più grandi della siberia in russia è diventato color del sangue completamente come dissero appunto gli stessi abitanti da un giorno all'altro e non era un ucello un fiume enorme come si vede e come questo fiume che si è trasformato in color del sangue ce ne sono stati altri in altre parti del mondo documentati e pubblicati anche dai vari giornali ecco sono solo alcuni dei tanti fenomeni verificati sì in questi ultimi cinque anni ma andiamo oltre un altro fatto strano stranissimo che diede svolta comunque alla possibilità di capire quei fenomeni strani di cui ho appena parlato fu quando in vaticano improvvisamente ci furono due papi cosa mai successa nella storia della chiesa e allora le cose iniziano ad essere più chiare e lo pubblica in un video questo è il video in cui pubblicai brevemente le cose strane stranissime che papa bergoglio fece nei due e tre anni successivi questo indicava che c'era qualcosa simile a una fine o almeno a qualcosa di tremendo che sembra per succedere ma non ero riuscito a capire che cosa e pensai che fosse la guerra tanto annunciata da parte della corea eccetera eccetera ma diventò comprensibile quando un giorno papa bergoglio nel centesimo anniversario dell'apparizione di fatima e tre pastorelli fece santi due pastorelli ecco qua era nascosto il vero segreto che nascondeva papa francesco comunque sia coloro che sapevano e sanno della probabile fine del mondo che ci sarà al termine del terzo segreto di fatima ma andiamo a vedere dentro la notizia perché sono importanti i fatti più che le parole la cosa più importante che avvenne a fatima in quel periodo fu il miracolo del sole ecco il miracolo del sole fu ciò che la madonna fece vedere a 70.000 persone a corse e riguardava la fine dei tempi la fine del mondo come sarebbe avvenuta questo è segreto tremendo nascosto per cento anni e che dovrebbe verificarsi come detto prima fra trenta tre giorni perché la madonna diversamente ai tre pastorelli non si fece vedere dalle 70.000 persone ma fece vedere il sole che dopo aver ruotato divenne rosso sangue e si scaliava verso la terra come hanno dichiarato i testimoni presenti i tre pastorelli solo loro videro la madonna che li tranquillizzava come appena detto la madonna apparse tre pastorelli e solo ai tre pastorelli la videro e questo è il racconto di uno dei testimoni che si trovava a 18 chilometri da fatima come ho già parlato anche in un altro video e disse mi sento incapace di descrivere ciò che vedi guardai fissamente il sole che sembrava palido e non feriva gli occhi sembrava una palla di sole girante su se stessa improvvisamente sembrava scendere a dirizzare minacciando la terra terrorizzato corsi minascondi fra la folla la quale stava piangendo e aspettava la fine del mondo come niente questo è il reale motivo di tutto ciò che avvenne a fatima quasi cento anni fa anche questo ho già riportato un altro articolo di un testimone e la parte in giallo sottolinea ciò che non è mai stato sottolineato né evidenziato in cento anni come si dice nascondere la verità non serve a niente perché prima o poi arriva il tempo della risa dei conti allora vediamo nel segreto di Fatima oltre che del terzo segreto di Fatima quello che è avvenuto a Fatima per capire ai giorni nostri oggi quando potrebbe succedere ciò che è stato dato alla vigente come terzo segreto di Fatima che parla della fine del mondo o di questa era o di questa società la data come già evidenziato dovrebbe essere il 13 in quanto la Madonna apparse il 13 di maggio l'ultima volta che si fece vedere il 13 di ottobre e Lucia la mistica o comunque sia la pastorella che vide parlò soprattutto con la Madonna morì il 13 febbraio del 2005 ecco guardando però allora per capire esattamente quando potrebbe essere l'anno bisognava riferire a che giorno era o che giorno sono avvenuti questi avvenimenti e per cui il 13 di maggio era domenica il 13 di maggio del 1917 come evidenza del calendario perpetuo vediamo anche l'ultimo giorno l'ultimo giorno che la Madonna si fece vedere per fare il miracolo era il 13 ottobre 1917 sabato il giorno ultimo il giorno ultimo della settimana cioè finiva la settimana il sabato fine e andiamo a vedere allora oggi o fra un mese il 13 ottobre 2017 sarà venerdì e hanno un significato queste date sabato quando la Madonna si fece vedere l'ultima volta era la fine della settimana e il venerdì sembra quasi quel famoso venerdì santo della passione di Cristo che è stato ucciso dagli uomini e le ricorrenze sono continue ecco il venerdì sarà il venerdì di passione dell'umanità a quanto è indicato la Madonna ma vediamo l'anno ecco questo mi dicevo prima il venerdì di passione di Cristo quando è stato messo sulla croce ucciso dagli uomini i quali hanno commesso il peccato più grave tra quelli mortali e un'offesa al creatore stesso come giungere a capire quale anno con più sicurezza la mente sapendo già che il 2017 dovrebbe essere il culmine della profezia stessa allora guardando il giornale sfruttando le varie date dei protagonisti eccetera perché lì come si dice tutte le risposte erano già lì nel segreto di Fatima in quello che è stato riportato dai giornali in quello che è avvenuto ma l'anno pur guardando tutte le varie date come appena detto eccetera non veniva data un'indicazione precisa dell'anno poi a un certo punto se uno guarda distaccando si vede che tra i tanti giornali tante copertine di giornali quello che risalta di più cos'è qual è o secolo e allora dici eccolo la risposta secolo ovviamente la traduzione in italiano è il secolo ma bisogna guardare per quello che è lì scritto non la traduzione come ho fatto poi a parte e allora noi arriviamo a che cosa? ecco guardiamo bene questa copertina in grande di o secolo c'è uno zero posto della o come potrebbe essere insomma c'è l'inizio e la fine secolo un secolo per cui passato un secolo che è ora esattamente il 13 di ottobre 2017 si completa il cerchio il secolo è passato per cui è esattamente un secolo dopo perché in effetti la madonna l'ultima volta che si è fatta vedere fu il giorno in cui mostrò agli uomini come sarebbe venuta alla fine dei tempi la fine del mondo qualcuno potrà osservare ma è strano però che la madonna voglia la fine del mondo come ha fatto vedere visto che la gente era di che pregava almeno la maggioranza di loro e forse come ho già detto in un altro video sarà perché gli uomini hanno ucciso dopo averlo torturato umiliato suo figlio per cui la fine del mondo della terra potrebbe avvenire come ha fatto vedere la madonna attraverso il sole come ho spiegato a livello scientifico il sole potrebbe farla esplodere o bruciarla ma potrebbero esserci anche altri modi come è riferito nel nome stesso di Fatima sì perché guardando le lettere del nome che compongo il nome di Fatima perché mi ero chiesto come mai proprio Fatima che è uno dei tanti luoghi come altri ecco guardando poi il nome e cercando così facendo uno schizzo velocemente perché non mi sembrava più di tanto importante notai che la prima lettera la t di Fatima è terra la seconda è impatto la terza lettera è fatale impatto fatale la quarta c'è si rificia asteroide e potrebbe essere come la quinta un meteorite e la sesta è A come apocalisse sembra che non sia stato scelto per caso Fatima dalla Madonna stessa o dalla realtà che essa esprime quella realtà superiore che ci controlla da sempre e voglio terminare evidenziando questo articolo di scienza che in base al fatto che qualcuno potrebbe dire eh ma un secolo fa tanto tempo fa duemila anni fa quando l'uomo ha un ucciso Cristo è tanto no perché bisogna ricordarsi sempre che il nostro tempo è un'altra cosa a confronto a quello universale ed esempio basta leggere qua cioè otto anni universali sono paragonati a ottocento anni sulla terra per cui si può immaginare che una dimensione superiore il nostro secolo sia un'ora fa e duemila anni da quando è stato ucciso dagli uomini vilmente Gesù che era venuto per salvare per evolvere gli uomini portandoli amore comprensione amicizia consapevolezza eccetera eccetera ecco i duemila anni comunque sono soltanto il giorno prima ecco come dire la capacità che ci ha dato la conoscenza che ci ha dato in questi ultimi tempi la scienza e lo studio che abbiamo fatto ci rende possibile comprendere cose che prima erano inimmaginabili e oggi come oggi chiunque può capire tutto quello che è stato appena spiegato per cui la profezia si conclude qua bisogna solo aspettare il 13 ottobre per averne la certezza perché come dico sempre di certo non c'è nulla ma è meglio essere pronti piuttosto che trovarsi sotto una montagna di macerie ciò che era la terra prima